Dottor Gugliotta, diciamo che il momento è anche topico, nel vero senso della parola, perché trasferire un commissariato in un palazzo così di prestigio e bello per la Polizia è un onore, ma è un onore anche per Assisi avervi qua e soprattutto potenziarvi in questa fase in cui si sta aspettando il giubileo. Dico, ha detto bene, è un onore e secondo me anche produttivo perché siamo in un punto strategico della città, in un palazzo prestigioso e finalmente devo dire grazie alla missione comunale di Assisi che veramente si è impegnato in modo concreto, fattivo e in parte al Dipartimento, il nostro personale ha una struttura dignitosa perché penso che un diritto dei lavoratori è quello di lavorare in strutture adeguate e poi mi permette di dirlo, in tempi di ristrettezze economiche è una struttura più funzionale e più grande e c'è un risparmio dell'affitto della locazione circa del 25%. Professore, vi aspetterete evidentemente per il periodo del giubileo un superlavoro? Beh, dico, io mi auguro che ci sia il superlavoro perché significa che il giubileo, così come ha voluto il Papa, ha avuto un successo e queste mete come Assisi sono state frequentate o visitate da parecchia gente, quindi c'è un avvicinamento alla Chiesa, c'è un avvicinamento a questi luoghi sacri ma sappiamo perfettamente che è un lavoro di intelligence e anche proprio di difese passive, ma credo che allerteremo ovviamente tutte le nostre attività info-investigativa in modo che tutto si svolga come di giusto e come di diritto nel modo più sereno. Il giorno del grande passaggio, mi pare di capire che ci saranno delle grandi personalità, non voglio evidentemente anticipazioni, ma come sarà organizzata la giornata? Io credo che questo sia un momento importante, non so se le grandi persone riusciranno a venire, ma è intenzione di queste persone di venire ma la giornata sarà in segno della semplicità come di giusto che sia, cercheremo di creare meno disagio alla gente e di essere vicini alla gente sarà una qualche cerimonia che è aperta a tutta la comunità di Assisi in questa piazza meravigliosa dove ci sarà qualcosa che tenderà di rinsaldare questo rapporto che c'è tra Polizia di Stato e cittadini, tra Polizia di Stato, cittadini e amministrazione comunale all'insegna della semplicità e della concretezza. Noi non abbiamo bisogno di sbandierare, dobbiamo bisogno solo di fare e di fare cose serie dell'interesse della gente per la quale noi dobbiamo operare e operiamo ogni giorno. Palazzo Giampè è bellissimo, dentro ci sono molti affreschi, è possibile che poi le chiederanno anche di essere trasferiti nella città serafica? Ma guardi, le domande di trasferimento ci sono e ce ne sono tante, infatti già qualche collega mi diceva mi farebbe piacere chiudere il mio servizio ad Assisi, io penso che è un piacere di tutti perché è una comunità civile, una comunità collaborativa e credo che è un piacere non solo lavorare in quella struttura prestigiosa, bella, confortevole, ma è un piacere lavorare con una città che risponde a tutti quelli che sono gli input che avvengono da noi e dalle altre forze dell'ordine.